ciao a tutti oggi vediamo come creare un livello di testo quindi come al solito cominciamo col creare una nuova composizione composition new composition la intitoliamo livello testo solito preset hd 10 secondi basta uno sfondo nero perfetto e per creare un livello di testo la cosa è semplicissima si prende dagli strumenti base su in cima lo strumento testo che è questo qui ci clicchiamo sopra con questo strumento veniamo nel punto in cui vogliamo che il testo compaia e clicchiamo una volta sola e questa barra rossa indica la dimensione del carattere bene procedo subito con lo scrivere motion graphics e la parola è scritta il livello di testo è qua presente nella timeline e questo è il metodo che io preferisco solitamente quando devo scrivere un testo che su un'unica linea nel caso in cui dovessi scrivere un testo molto lungo su più linee che deve stare all'interno di un paragrafo che occupa un particolare spazio nella composizione allora si può fare in un altro modo e cioè elimino dalla timeline questo livello testo prendo di nuovo lo strumento testo e anziché cliccare e basta all'interno della composizione clicco e col mouse premuto trascino e creo un rettangolo quando lascio andare il mouse si crea questo rettangolo che è il paragrafo all'interno del quale il testo compare se io scrivo un testo particolarmente lungo questo testo non esce da questo rettangolo per cui questa volta anziché scrivere io a mano copio un testo già pronto e in questo caso copio questo testo qui quindi ctrl c vengo di nuovo qui in after effects e incollo ctrl v e vedete che questo testo sta soltanto all'interno di quel rettangolo e non esce da quei confini lì quindi clicco e trascino per creare un rettangolo all'interno del quale poi il testo può comparire bene a noi oggi forse non interessa questo caso qui quindi di nuovo elimino questo livello di testo di nuovo prendo ancora lo strumento testo clicco soltanto una volta all'interno della composizione e di nuovo scrivo un'unica linea una volta che il testo è scritto lo si può modificare in tanti modi diversi intanto per poterlo modificare abbiamo bisogno di aprire qui sulla destra la palette character e anche la palette paragraph quindi se non sono già aperte qui a destra si va nel menu window e si trovano qui character e paragraph prima di concentrarci su tutte le proprietà proprio del testo della palette vediamo un attimo la palette paragraph vi faccio notare questi primi tre comandi qua gli altri non ci interessano per ora servono ad allineare il testo a sinistra al centro o a destra nel mio caso adesso è acceso il bottone centrale vi faccio vedere la differenza di scrittura del testo se uso uno di questi tre qui allora lascio di nuovo al centro e ripeto la scrittura del testo quindi prendo lo strumento testo clicco e vedete che il testo a mano a mano si allarga dal centro verso destra e verso sinistra quindi è comodo per fare in modo che a mano a mano che io aggiorno il testo quello rimane sempre centrato lì dove io ho cliccato se invece un'altra volta usassi come allineamento il primo bottone sinistra dove io clicco da lì comincio a scrivere il testo verso destra facciamo una prova motion e di nuovo si vede che il testo procede a mano a mano che aggiungo lettere verso destra e non dal centro in fuori e la stessa cosa succederebbe se usassi il terzo bottone facciamolo di nuovo subito usiamo la terza allineamento quello a destra quando adesso io clicco qua scriverò testo mano a mano che si allunga si allunga verso sinistra benissimo adesso per l'ultima volta lo riscrivo con l'allineamento al centro che forse è il più usato benissimo ora quando il testo è scritto torniamo a aprire la palette character qui e vediamo come possiamo modificare il testo usando questi parametri qua innanzitutto prima cosa che facciamo è selezioniamo il testo e prima di proseguire la prima cosa che modifico è la dimensione del testo che è un po piccola il parametro per aumentare la dimensione del testo è questo primo numero che compare qui quindi ci clicco sopra il numero e trascino verso destra per aumentare posso cliccare trascinare oppure cliccare scrivere direttamente il valore se so che valore dagli bene adesso torniamo ai parametri che stanno qua sopra innanzitutto la font la font cioè il tipo di carattere in questo momento io ho scritto un testo con font elvetica se non mi sta bene questa font clicco su questo menu e ne scelgo un'altra le fonti che compaiono qui sono tutte quelle che sono installate nel computer ma torniamo la nostra elvetica bene sotto questo menu qua ce n'è un altro e corrisponde agli stili disponibili del carattere scelto sopra in questo caso il carattere elvetica a disposizione sei diversi stili regolare più sottile bold più spesso poi light ancora più sottile lasciamo bold così si vede meglio a destra invece abbiamo le due palette per decidere il colore di riempimento delle lettere e il colore di contorno delle lettere cominciamo con il colore di riempimento posso cambiarlo così se voglio bianco nero basta che clicco su questa palette ridotta qui sulla sinistra qui o qui se invece voglio un colore particolare beh allora clicco su questo primo quadrato si apre la palette con tutti i colori a disposizione qui posso scegliere il colore che voglio per scegliere rapidamente un colore da questa colonna sulla destra qui portate il cursore sopra il colore che volete usare per esempio verde poi una volta scelto la tonalità del colore qui in questa zona grande quadrata cliccate trascinate sulla sfumatura di quel colore che avete scelto in questo caso scelto un verde do una sfumatura non troppo satura il massimo della saturazione in alto a destra e mi metto più o meno in questa zona qua bene do l'ok se volessi anche un colore di contorno allora dovrei attivare questa seconda paletta al momento è barrata di rosso il che significa che il contorno è trasparente e se invece volessi un contorno di nuovo potrai scegliere uno di questi due o bianco o nero al momento è molto sottile oppure scegliere un altro colore dalla palette qua ok magari mettiamolo bianco una volta scelto il contorno bisogna stare attenti che bisogna decidere anche qui sotto lo spessore del contorno che è questo numero qua al momento è un pixel infatti è molto sottile non si vede proviamo aumentare il valore clicco e trascino è aumentato lo spessore notate che aumentando lo spessore lo spessore va a coprire il colore di riempimento è successo questo perché in questo menu a destra della dimensione del bordo in questo menu è specificato che il bordo copre il riempimento stroke over fill se invece noi scegliamo la prima voce fill over stroke allora il contorno sta dietro e quando io aumento la dimensione del contorno il contorno comunque non va a coprire il riempimento questo è importante adesso vediamo anche gli altri parametri il primo l'abbiamo già visto la grandezza del del carattere più grande più piccolo il secondo a che fare con lo spazio interlinea se per esempio io andassi a capo motion e poi a capo graphics allora con questo strumento qui potrei decidere la distanza tra le linee ok torniamo indietro mentre invece l'ultimo di questi parametri serve a regolare la distanza fra tutte le lettere se aumento o diminuisco la distanza aumenta diminuisce fra tutte quante le lettere anche questo torniamo a zero il terzo parametro qui invece serve a regolare la distanza fra due lettere ma per fare questo bisogna prima mettersi col cursore tra una lettera e l'altra e quindi prendo di nuovo lo strumento testo e clicco per esempio tra la o e la t e se aumento o diminuisco questo valore vedete che la distanza aumenta diminuisce soltanto fra quelle due lettere pure sempre cliccare e usare la scorciatoia alt freccia destra o freccia sinistra bene anche questa abbastanza comoda gli altri parametri servono ad allungare il testo in verticale allungarlo accorciarlo in larghezza e a spostarlo in alto in basso rispetto alla linea sulla quale era stato scritto quest'altro non ci interessa perché ha a che fare coi caratteri giapponesi e poi ci sono i falsi grassetto il falso italico e altre altre cose maiuscolo fisso ma anche questi al momento non ci interessano altra cosa noi abbiamo fatto modifiche su tutto quanto il testo contemporaneamente ma si possono selezionare parti di testo magari seleziono soltanto la seconda parola e modificare soltanto quella parola potrei modificarne soltanto lo stile più sottile magari poi potrei fare più grande più piccolo il secondo testo potrei cambiare il colore magari un po' più sottile insomma posso andare a modificare anche solo porzioni di testo bene se io però per esempio adesso voglio una parola grande una parola piccola e poi voglio reingrandire tutto mantenendo questa relazione qua grande piccolo non posso selezionare tutto quanto il testo e poi modificare la grandezza perché così facendo tornano di nuovo tutti i grandi uguali quindi se volessi adesso modificare tutto il testo mantenendo queste proporzioni fra le due parole dovrei lavorare sulla scala del livello testo per cui adesso andiamo a vedere anche le proprietà qua dentro che sono le solite se andiamo ad aprire abbiamo la solita proprietà di transform anchor point position scale rotation opacity perché questo è un livello come qualsiasi altro in questo caso dicevamo bisognerebbe aumentare o diminuire la scala per ridimensionare tutto quanto il testo mantenendo le relazioni di grandezza che avevo dato qua fra le due parole bene la position anche la posso regolare vi faccio notare l'anchor point dove sta sta sempre nella parte bassa delle lettere al centro o a sinistra o a destra a seconda di come io avevo scelto l'allineamento qui nella palette paragraph per cui quasi sempre c'è bisogno di spostare l'anchor point da qui in un'altra parte quasi sempre al centro quindi per mettere l'anchor point al centro della scritta il metodo rapido è quello che abbiamo usato anche per gli altri livelli cioè la palette move anchor point quindi adesso io voglio l'anchor point al centro del testo e clicco lassù al centro della palette move anchor point per mettere l'anchor point al centro nella timeline si vede che oltre ad avere una sezione transform con le 5 proprietà base c'è anche una sezione text con delle proprietà di testo particolare e non si limitano solo a quelle che vedete qua ma anche a quelle che compaiono in questo menu qua ma in questa lezione noi non le analizziamo le analizzeremo più avanti nel dettaglio perché con queste proprietà si possono fare animazioni molto interessanti ma oggi forse è un po' prematuro vedere come si fanno quindi chiudiamo quella sezione e torniamo qui ora che io ho un livello di testo su questo testo qua io posso fare tutto quello che facevo sulle foto i disegni e i video per cui se volessi fare faccio solo un esempio se volessi fare un'animazione sulla scala che ne so al tempo 0 la scritta è la voglio grande 0 quindi metto il valore a 0 sulla scala accendo l'orologio ed ecco che ho un keyframe qua sulla scala voglio che dopo un secondo la scritta sia grande così faccio la preview ecco un'animazione su un testo creato da me bene per quanto riguarda il livello di testo per oggi ci fermiamo qui ci torneremo molto più avanti per analizzare le altre proprietà per fare animazioni particolari quindi anche per questa lezione è tutto ciao e ci vediamo alla prossima